Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale, una soluzione che arriva dalla Cassazione per recuperare gli interessi che la Regione sta pagando sui bond sottoscritti negli anni passati. I 5 Stelle sollecitano ora la maggioranza a porre rimedio, una situazione già evidenziata dalla Corte dei Conti e sulla quale la Regione è stata fino ad oggi inerte, dicono. Sentiamo i dettagli della conferenza stampa che si è svolta oggi in Consiglio regionale nel servizio di Giovanni Di Tota. Già all'epoca l'acquisto di quei derivati finanziari aveva scatenato le critiche dell'opposizione. I famosi bond che la Regione aveva sottoscritto avrebbero comportato un tasso di interesse giudicato conveniente fino al 2033, scadenza naturale del contratto. Il pacchetto di obbligazioni del valore di circa 270 milioni avrebbe dovuto essere restituito in 30 anni con un tasso fisso di interesse calcolato al 5%. La questione è finita nel mirino del Movimento 5 Stelle che ha tenuto d'occhio l'andamento del mercato. È calcolato che negli ultimi dieci anni la Regione ha pagato interessi per un centinaio di milioni. Nonostante il tasso di riferimento dei fondi, certificato da Euribor, ha sempre avuto un valore molto al di sotto di quello sottoscritto e previsto dalla Regione Molise, addirittura meno dell'1% attorno allo zero. I soldi persi, tuttavia, secondo il Movimento 5 Stelle, grazie a una sentenza della Cassazione, la Regione ha la possibilità di recuperarli e per questo il gruppo consigliare ha suggerito alla maggioranza di seguire questa strada. C'è una sentenza delle sezioni riunite della Corte di Cassazione del maggio 2020 che è stato strumento anche per la Corte dei Conti per rilevare un aspetto fondamentale che rileva dei vizi di legittimità notevoli, quindi riguarda proprio la potenziale illegittimità di questi contratti proprio perché l'organo consigliare all'epoca non si espresse e perché la sentenza della Corte di Cassazione, tra i principi che fa valere, dice che doveva essere l'organo consigliare a esprimere, a valutare la convenienza economica. La Regione è sempre rimasta inerte, anche inerte dopo l'invito della Corte dei Conti scritto nella parifica del rendiconto da due anni a questa parte di valutare la validità di queste delibere. Loro l'hanno già appurato ma lo deve fare la Regione perché la Regione è il controparte contrattuale. L'altra controparte sono le banche che hanno incassato fino ad oggi, possiamo dire, quasi 100 milioni di euro di interessi aggiuntivi rispetto alle cedole variabili che erano state pattuite all'inizio da pagare agli investitori, a chi aveva comprato le obbligazioni. Veniamo adesso ai dati Covid in Molise con l'ultimo bollettino dell'ASREM. Sono 283 nuovi positivi su 1.659 tamponi refertati, tasso di positività al 17%, due i ricoveri in malattie infettive, due i dimessi dallo stesso reparto, non ci sono decessi, sono 29 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli, di cui due in terapia intensiva e 15 negli infettivi. Dei nuovi positivi 46 sono di Campobasso, 27 di Ururi, 26 di Isernia, 21 di Termoli, numeri inferiori negli altri comuni interessati. Sono 763 i guariti nelle ultime ore di questi 367 di Campobasso. Gli attualmente positivi in Molise sono 8.245. E in serata oggi cerimonia di proclamazione della venerabilità del servo di Dio fra Immacolato. Brienza per decreto di Papa Francesco. Nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, a Campobasso, la messa solenne presieduta da sua eminenza il Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, è concelebrata dai vescovi e dalla presenza del presbiterio diocesano. C'erano anche i parenti di fra Immacolato, di Aldo Brienza. C'era la sorella molto emozionata al momento della sottoscrizione di tutti gli atti e le carte. Ovviamente c'erano anche gli altri familiari, presenti le autorità istituzionali, il sindaco di Campobasso, ma anche quelle civili e militari. Una cerimonia sentita e partecipata che Telemolise ha trasmesso in diretta. Aldo Brienza è stato sottolineato, si offrì vittima per i sacerdoti e per quanti hanno necessità di ogni genere dall'età di 16 anni e per 51 anni fu costretto nel letto di casa da una malattia. Diventò carmelitano scalzo. Dopo un lungo iter è stato dunque riconosciuto venerabile. Era presente alla cerimonia anche Monsignor Armando Odini, il vescovo che ha preceduto Bregantini e che ha avviato tutto l'iter per arrivare appunto alla venerabilità e ha ripercorso tutte le tappe. È stato il cardinal Semeraro a presenziare alla lettura appunto del decreto durante la messa di questa sera. Ma sentiamo le sue dichiarazioni, le prime dichiarazioni a caldo appena arrivato a Campobasso. Eminenza è una giornata molto importante per Campobasso, fraimmacolato, venerabile per decreto di Papa Francesco. Ecco, lei ha voluto essere qui. Cosa significa oggi questa giornata per i campobassani e per i molisani? Significa che si verifica quello che ha scritto nel Magnificat, che il Signore innalza gli umili. Lo ha fatto per Maria e lo ha fatto anche per fraimmacolato. Qual è il messaggio di fraimmacolato? Significa che anche la malattia può essere il luogo, un cammino per incontrare non soltanto il Signore, ma per incontrare i fratelli. Giornata in Molise per il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso. Diversi gli impegni istituzionali in regione, ma anche una visita al liceo classico di Campobasso, che Sasso frequentò da studente. Sentiamo Enzo Luongo. L'emozione di ritrovare il proprio banco e di rivedere la propria classe. Il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso è voluto tornare oggi nella sua scuola, il liceo classico Mario Pagano di Campobasso. Qui si diplomò dopo essere venuto a vivere per un periodo dalla sua Puglia in Molise per seguire il papà all'epoca rettore del convitto Mario Pagano. Accolto dal preside Antonello Venditti e dal direttore dell'ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini ha incontrato alcuni ex compagni di classe, tra questi gli attuali amministratori comunali Alberto Tramontano e Alessandra Salvatore e poi i suoi ex professori San Martino e Cacchione. Sono molto emozionato perché innanzitutto ho qui con me i miei professori, il professor San Martino e il professor Cacchione, che hanno contribuito alla mia crescita culturale, emotiva e quindi è colpa loro anche se oggi sono diventato sottosegretario, colpo a merito dipende dai punti di vista. Sono qui a ricalcare dopo 29 anni le mattonelle di questo glorioso istituto e lasciatemi spendere anche una parola in favore dell'iscio classico perché ancora oggi nel 2022 è la scuola migliore per formare le coscienze critiche, per aiutare e eventualmente anche per contestare l'epoca in cui si vive. In occasione della sua visita in Molise il sottosegretario ha fatto anche il punto sullo stato di salute della scuola italiana. Lo stato della scuola italiana è quello di un malato che però è guarito, è un po' debilitato, deve fare un po' di fisioterapia ma ha tanta voglia di riprendere a camminare e crescere. Sicuramente uno degli aspetti principali, almeno per quello che mi riguarda, è la gratificazione di chi a scuola ci lavora. L'adeguamento stipendiale del nostro personale docente è uno dei meno pagati in tutta Europa. Io sono figlio di un uomo di scuola. 40 anni fa dire di essere figlio di un professore era simbolo di prestigio sociale, di autorevolezza. Oggi purtroppo non lo è più. Allora motiviamo di più i nostri docenti, formiamoli meglio indubbiamente. E il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione Rossano Sasso durante la sua visita istituzionale in Molise dopo aver visitato il liceo classico Mario Pagano, accompagnato anche dal commissario regionale della Lega Michele Marone dai consiglieri comunali di Campobasso Tramontano e Pascale, dal presidente del consiglio comunale di Termoli Ciarniello e dalla responsabile regionale della Lega Giovani Molise Minnillo ha inaugurato il centro provinciale istruzioni adulti intitolato al maestro Manzi. Il sottosegretario Sasso ha speso parole di apprezzamento per il nuovo centro educativo per adulti e si è dichiarato disponibile per ogni necessità della scuola molisana. Queste sono le foto appunto della sua partecipazione all'inaugurazione della struttura. Ci vogliono almeno 200 infermieri subito negli ospedali molisani. L'appello viene lanciato da Bruno Delliquadri, coordinatore CISL delle professioni sanitarie. Il sindacalista chiede al direttore generale Oreste Florenzano e al commissario Toma di stabilizzare i precari perché l'ultimo concorso per infermieri ha prodotto risultati inferiori alle aspettative con un numero di vincitori addirittura inferiore a quello dei posti messi a concorso. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Solo 134 candidati hanno superato la prova scritta per il concorso da infermieri bandito dall'ASREM. Siamo ben al di sotto del fabbisogno delle almeno 200 figure professionali che occorrono subito nelle corsie degli ospedali molisani per far fronte alle carenze d'organico infermieristico. Ipotizzando poi che non tutti e 134 i candidati ammessi all'orale siano dichiarati vincitori occorre trovare soluzioni alternative immediatamente. L'appello arriva da Bruno Delliquadri, coordinatore CISL delle professioni sanitarie. Per questo il sindacalista invita Florenzano e Toma ad avvalersi della possibilità offerta dalla legge finanziaria che autorizza la stabilizzazione dei precari. Pertanto Delliquadri invita l'ASREM ad avviare celermente le procedure per la stabilizzazione del personale sanitario che abbia maturato i requisiti secondo la legge finanziaria 2022 che al Coma 268 afferma testualmente che le aziende sanitarie possono assumere a tempo indeterminato in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale il personale del ruolo sanitario e gli operatori sociosanitari anche qualora non più in servizio che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e incluse le selezioni previste dal decreto legge del 17 marzo 2020 e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno 18 mesi di servizio anche non continuativi di cui un periodo minimo di 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022 secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione ed è importante sottolineare che i 18 mesi di servizio richiesti conclude degli quadri sono da indendersi presso qualunque struttura del Servizio Sanitario Nazionale e non nella sola azienda ASREM quindi la strada per risolvere il problema della carenza di personale infermieristico c'è basta volerla percorrere la giunta regionale ha preso atto della scheda relativa al bando per l'erogazione di contributi alle imprese titolari di emittenti televisive locali per investimenti in tecnologie innovative in particolare per il passaggio alla tv digitale terrestre di nuova generazione è un passaggio obbligatorio l'esigenza di tali investimenti, fanno sapere dalla regione ricade su un comparto che ha subito un notevole impatto degli effetti indotti dall'emergenza covid infatti a fronte di un crescente impegno del settore per il ruolo fondamentale della comunicazione durante tutto il periodo le aziende hanno subito una notevole riduzione di fatturato derivante sostanzialmente dalla riduzione degli introiti pubblicitari il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di 2 milioni di euro era uscito per la sua solita passeggiata un uomo di 75 anni di termoli che questa notte è stato trovato senza vita nella zona di Torre Fantine a Campomarino la famiglia non vedendolo rientrare non riuscendo a mettersi in contatto telefonico con lui ha contattato le autorità competenti e sono scattate le indagini da parte di carabinieri protezione civile e vigili del fuoco in tarda serata il ritrovamento del corpo ormai senza vita probabile che si sia trattato di un malore non è stata disposta l'autopsia dal magistrato di turno e domani si terranno i funerali emergenza cinghiali ci sono delle novità che riguardano l'allargamento del periodo venatorio e la modifica della legge 157 sui controlli a illustrarle l'assessore regionale Nicola Cavaliere sentiamo arrivano le prime risposte all'emergenza cinghiali così l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Cavaliere ha commentato le novità che sono state comunicate dalla sottosegretaria alla transizione ecologica Gava che su delega del ministro Cingolani le ha illustrate in conferenza politiche agricole due sostanziali modifiche alla legge 157 del 1992 previste dalla bozza del decreto interministeriale approvato dalla commissione inviato alla conferenza dei governatori e poi sul tavolo del consiglio dei ministri fino a giungere alle camere questo litter previsto il primo punto riguarda l'ampliamento della caccia al cinghiale che amplia il periodo a due mesi fondamentalmente prima era previsto tre mesi l'anno ottobre dicembre o novembre gennaio oggi con questo decreto con questa bozza sperando che lo approvino il più presto possibile si va a determinare un periodo di ampliamento che parte da ottobre febbraio novembre marzo questa è l'opzione che le regioni possono scegliere nell'ambito del periodo previsto dalla norma il secondo punto riguarda invece i piani di controllo e selezione nelle aree protette riguarda la possibilità di fare piani di controllo all'interno di zone protette all'attività venatoria con personale qualificato innanzitutto gli operatori dell'arma dei carabinieri colpo forestale, polizia locale, polizia provinciale oltre a cacciatori che hanno effettuato corsi approvati da Ispra soddisfatto Cavaliere che ha definito le proposte concrete dopo aver appungolato i ministri competenti sul tema emergenza cinghiali seguiremo con particolare attenzione il percorso dell'approvazione del decreto e saremo sul pezzo denunciando tutte le forze politiche che si metteranno di traverso e di ostacolo all'approvazione di questo decreto significa che non vorranno bene i territori che non vorranno risolvere i problemi dell'agricoltura che non vorranno risolvere i problemi della sicurezza che non vorranno risolvere i problemi dell'ambiente e della biodiversità sono stati massacrati a San Giuliano del Sannio e abbandonati nelle campagne in periferia a lanciare l'allarme sono stati i cittadini che hanno trovato i corpi dei cagnolini in una scatola l'ASREM ha predisposto la consegna dei cuccioli all'istituto zoo profilattico per accertarne la morte da maltrattamento intanto il corpo forestale ha aperto le indagini per identificare l'autore del gesto Lotto zero bufera sul comune di Isernia per la decisione del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta di sospensiva dei lavori avanzata da Piero Castrataro un sindaco sotto attacco da parte del centrodestra che ha sempre sostenuto la validità della bretella stradale ascoltiamo l'ex assessore Domenico Chiacchiari schierato dalla prima ora a sostegno dell'opera pubblica nell'intervista realizzata sempre da Enzo Di Gaetano Domenico Chiacchiari uno dei maggiori sostenitori dell'otto zero allora grossa soddisfazione dopo la decisione del Consiglio di Stato Sì una bella soddisfazione ma soprattutto una bella soddisfazione per la città di Isernia diciamo un'opera così importante che da anni mancava un investimento di queste portate sulla nostra città quindi un vantaggio in termini di viabilità e un vantaggio in termini economici perché sicuramente ne resenderà favorevolmente anche la nostra città a livello economico ci tengo a dire che il sindaco ci accusò di non essere capaci a leggerci le carte che erano gli atti che erano stati fatti negli anni per autorizzare l'otto zero però respingo le accuse e dico a sindaco che oggi è lui che dovrebbe fare un ripasso di lettura di questi atti grossa soddisfazione speriamo che iniziano subito i lavori e che venga realizzata questa bellissima opera Chiacchiari l'altro argomento del giorno il bilancio lì avete qualcosa da dire per il ritardo con cui sta andando avanti la presentazione? Sì io siccome ho fatto l'assessore nella passata amministrazione e ricordo bene che ogni anno il primo di maggio il prefetto provvedeva a diffidare il comune di Sernia perché non aveva approvato il bilancio entro il 30 di aprile oggi siamo al 10 di maggio e questa diffida non è arrivata non so le motivazioni non mi spiego perché ci sia questo trattamento diverso però attendiamo quello che ci dirà la prefettura si moltiplicano le adesioni al neonato movimento politico noi di centro che fa capo a Clemente Mastella anche il sindaco di Sant'Angelo Limosano William Ciarallo ha deciso di far parte del gruppo e ricoprirà l'incarico di responsabile degli enti locali e della politica per i piccoli comuni partirà a breve la raccolta differenziata nel quartiere Vazieri di Campobasso e dentro l'inizio del 2023 sarà completata anche con il centro storico a illustrare i passaggi l'amministratore unico della SEA Stefania Tomaro e l'assessore comunale all'ambiente Simone Cretella sentiamo entro l'anno in quasi tutta Campobasso ci sarà la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta e quanto hanno detto l'assessore comunale all'ambiente Simone Cretella e l'amministratore unico della SEA Stefania Tomaro illustrando l'estensione della differenziata nel quartiere Vazieri al via il 13 giugno la differenziata Vazieri è frutto di una progettazione che inizia già dal 2016 ripresa nel 2020 con una progettazione esecutiva che abbiamo attivato durante tutto il 2021 siamo arrivati dopo le gare e l'espletamento degli approvvigionamenti dei mastelli e quindi dei beni di cui necessita l'utenza e adesso siamo nella fase siamo entrati nel vivo nella distribuzione 2 maggio 13 giugno prima parte che è Vazieri 1 ovvero Vazieri Sud poi ci seguirà Vazieri Sud-Ovest e infine ci sarà l'area di prossimità murattiana prevediamo 40 giorni quindi 40 prima fase 40 seconda fase 40 terza fase a ridosso dell'estate l'obiettivo è arrivare all'inizio dell'anno prossimo a coprire tutta la città nei prossimi mesi veramente con un ritmo incalzante si andranno a coprire le zone prima di Vazieri Bassa poi a salire verso la parte diciamo sud ovest della città e a seguire tutta la cinta che circonda la zona murattiana che invece sarà oggetto di un'altra operazione questa ormai nota che stiamo in questa fase sperimentando presso il quartiere San Francesco ma che poi con quella tipologia verrà estesa anche al centro della città possiamo dire sicuramente che entro autunno l'intera città sarà comunque servita dalla raccolta differenziata con riserva solo di perfezionare quella del centro murattiano dove avverrà la sostituzione dei cassonetti Tomaro ha anche illustrato le percentuali della differenziata a Campobasso con il incremento del porta a porta che è un obiettivo ricordiamocelo tutti imposti chiaramente dal legislatore aumenta la percentuale di raccolta differenziata noi partivamo nel 2017 con un dato bassissimo 16% siamo arrivati all'incirca al 34% nel 2020 e abbiamo incrementato già di circa 5 punti percentuali è evidente che ampliando il porta a porta su tutta l'area cittadina ci sarà un forte aumento della raccolta differenziata su tutte le aree interessate presenti in conferenza stampa anche alcuni operatori di consegna e sono state spiegate le modalità della raccolta differenziata i tipi di mastelli in consegna ai cittadini in questi giorni da parte della SEA approvato dall'aggiunta comunale di Termoli il progetto della pista ciclabile 13 km di strada che collegheranno i 4 comuni costieri sentiamo Francesca Danversa collegare fra di loro i 4 comuni della costa questo è il progetto della pista ciclabile che interessa anche Termoli che sarà ricompresa nella ciclovia adriatica che parte da Trieste e arriva in Salento attraversa ben 7 regioni per 1300 km per la costa molisana sono previsti circa 13 km di strada i comuni interessati sono Termoli Marina di Montenero Marina di Petacciato e Campo Marino per la realizzazione sono destinati circa 22 milioni di euro l'opera dovrà essere terminata entro il 2026 e i lavori affaltati nel 2023 questi i termini per poter utilizzare i fondi del piano di ripresa e resilienza per il tratto che collega Termoli e Petacciato la statale 16 verrà realizzata una strada per consentire l'accesso alle case ai residents e un'altra doppio senso sul lato della ferrovia un progetto importante perché le piste ciclabili diminuiscono il traffico delle auto e si inseriscono in un'ottica di sostenibilità ambientale una strada che molte amministrazioni stanno percorrendo due professionisti molisani con la passione per il sociale e la solidarietà hanno favorito un incontro storico in tal senso quello tra il re della criptovaluta CZ Chang Peng Zhao e Monsignor Edgar Pegna Parra sostituto per gli affari generali della segreteria di stato della Santa Sede Zhao tra i più ricchi del mondo con il suo patrimonio stimato in 96 miliardi di dollari e amministratore delegato di Binance colosso della finanza virtuale il colloquio con l'alto prelato getta le basi per iniziative di beneficenza sostenute dal manager in diverse zone del mondo lo storico incontro avvenuto in Santa Marta è frutto dell'impegno dei molisani Manfredo Eliseo dontoiatra del Vaticano e Gianluigi Guida avvocato di Binance proprio in Santa Marta il dentista molisano nato a Campobasso offre parte del suo impegno lavorativo in favore del Vaticano partecipando anche a un'iniziativa della elemosineria apostolica vaticana con a capo il cardinale Krajewski questa mattina a Campobasso in piazza Vittorio Emanuele si è tenuta l'iniziativa sport e socialità nel rispetto delle regole promossa dalla Questura il servizio ancora di Enzo Luongo centinaia di bambini e ragazzi delle scuole della città in piazza a Campobasso per una giornata di festa all'insegna del ritorno alla normalità dopo il periodo buio della pandemia l'iniziativa sport e socialità nel rispetto delle regole è stata organizzata dalla Questura in collaborazione con il CONI l'ufficio scolastico regionale e con il patrocinio del comune scopo dell'evento quello di sensibilizzare i bambini attraverso lo sport quale forma privilegiata di inclusione sociale sul tema del rispetto delle regole in generale e di quelle che sottendono ad ogni forma di stare insieme è una giornata di ripresa abbiamo voluto festeggiare oggi con lo sport ma nel rispetto delle regole voi sapete che uno degli obiettivi della polizia è quello di far rispettare le regole oggi con lo sport vogliamo dimostrare il rispetto delle regole i giovani hanno dato però una risposta importante cioè grande entusiasmo entusiasmo sì perché sono stati contattati già da un bel po' di tempo quindi la loro partecipazione è non solo emotiva ma è effettivamente presente presenti all'iniziativa anche alcuni atleti dei gruppi sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato il pugile Vincenzo Picardi e la nuotatrice Fabiana Lamberti all'evento anche i cani e i cavalli della Polizia in contemporanea si sono svolte sei attività sportive presente inoltre il camper dell'associazione clown terapia Pacioc Onlus che dallo scorso anno ha ottenuto il patrocinio della Polizia per il progetto Ludoteca Taxi Clown consistente in un taxi sanitario che si occupa del trasporto di pazienti pediatrici L'affido di un minore è una scelta d'amore fatta di grandi responsabilità in Italia è uno strumento poco utilizzato per questo motivo i Lions di Larino insieme all'amministrazione comunale hanno organizzato un convegno per sensibilizzare e informare sul tema L'affido una scelta d'amore questo è il titolo dell'evento organizzato dai Lions di Larino insieme all'amministrazione comunale e l'istituto omnicomprensivo del centro frentano un confronto su uno strumento come quello dell'affido ancora poco utilizzato in Italia per quello si è sentita la necessità di diffondere il messaggio e approfondirne il tema Molise con gli affidi siamo molto in ritardo c'è una legge nazionale che di fatto non ha trovato mai un reale accoglimento da parte delle istituzioni e in particolar modo sia dagli enti locali che dagli ambiti sociali c'è un ritardo anche nel riconoscimento dell'affido come una delle forme per tutelare in qualche maniera i minori anche da parte del tribunale per i minori che in qualche maniera è lento lentissimo in alcune procedure perché affrontare il percorso dell'affido è un vero e proprio gesto d'amore lo sa bene Luca Trapanese è intervenuto in collegamento per raccontare la sua storia d'amore quattro anni fa ha adottato Alba una neonata di 11 giorni con sindrome Down con il tribunale di minori era stato chiaro sono single sono gay ha detto è disponibile ad adottare un bambino con disabilità e così è arrivato l'affido e poi l'adozione va veicolato il messaggio che la famiglia perfetta non esiste ha detto Trapanese non è un'immagine da promuovere siamo tutti imperfetti Luca Trapanese ora è assessore al comune di Napoli fondatore della ONLUS a ruota libera che si occupa di progetti legati alla disabilità la comunità per ragazzi disabili senza genitori il borgo sociale di una casa famiglia per bambini con gravi malformazioni unica in tutto il sud Italia la casa di Matteo voglio divulgare l'affido la scelta dell'affido una scelta d'amore perché certo è una grande responsabilità però si deve pensare che essendo affidatari torna il bene e il bene torna a tutti al minore alla famiglia del minore e anche a noi e quindi la divulgazione dell'affido è importante direi fondamentale il comitato regionale del Molise della federazione italiana tradizioni popolari dopo il successo della due giorni all'auditorium di Isernia con la premiazione dei padri del folklore ha voluto presentare le prossime iniziative e allora sentiamo il servizio di Valeria Migliore dopo il successo della kermess musicale organizzata all'auditorium di Isernia con la premiazione dei padri del folklore il comitato regionale del Molise della federazione italiana tradizioni popolari la FITP ha voluto presentare le prossime iniziative tra cui la cerimonia degli Oscar del folklore che si terrà la prossima settimana in Puglia siamo diventati collaboratori di un grande progetto a livello mondiale che si terrà a fine della settimana prossima in Puglia tra Alberobello e Noicello Corotondo che ci vede diciamo coorganizzatori come parte attiva dove ci sarà l'Oscar mondiale del folklore ci sarà un meeting che vedrà riunite tutte le più grandi federazioni mondiali che si occupano di tradizioni e saranno toccati in questo progetto i temi della transumanza e dell'integrazione quindi transumanza il Molise doveva esserci per l'integrazione abbiamo tantissimi festival del folklore che da anni integrano i giovani di tutto il mondo per la prima volta il comitato regionale farà parte dell'organizzazione del raduno mondiale ad Alberobello il Molise è stato riconosciuto come partner importante addirittura ha ottenuto una partnership per altre manifestazioni ma questa volta a livello internazionale tant'è che saremo presenti come attori ma anche a sostegno di federazioni internazionali in Puglia e adesso una comunicazione aziendale che riguarda gli spazi elettorali per il referendum del 12 giugno la radio consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento con l'indicazione del termine entro il quale tali spazi possono essere prenotati le modalità di prenotazione dei suddetti spazi le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi quali autonomamente determinate dalla radio telemolise srl ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi è tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci